Nel 1962 nascono le regioni. Watson e Crick vincono il premio Nobel per la medicina. In Inghilterra esce il primo film della serie di Jez Bon e nasce il fumetto di Abolic. Anche il servizio sanitario della polizia di Stato è nato in quei giorni, sull'esigenza prevalente di una funzione medico-legale. Ed è evoluto nel corso degli anni successivi in compiti di natura preventiva e di tutela della salute nei confronti di coloro che svolgono il particolare mestiere del poliziotto. Quest'anno, la sanità della polizia di Stato festeggia il sessantesimo anniversario della sua fondazione. In questo lungo arco di tempo, contrassegnato da notevoli mutamenti sociali, dall'emergere di criticità nuove e da costanti progressi scientifici, è inevitabilmente cambiato anche il nostro servizio sanitario, sempre più impegnato in compiti di supporto e di formazione nei riguardi del proprio personale e sempre più inserito nel contesto della sanità pubblica. La professione sanitaria è cambiata. Sono diventate preminenti l'organizzazione, la capacità di fare squadra, la necessità di un continuo aggiornamento. La pandemia da SARS-CoV-2, in tal senso, ha rappresentato un formidabile strumento di tenuta del servizio sanitario, evidenziandone sicuramente alcune criticità, ma al tempo stesso anche la sua capacità di far fronte e di ripartire. Ed il nostro impegno è stato premiato con la medaglia d'oro alla bandiera. Le nostre professionalità hanno consentito e consentiranno tutte le trasformazioni necessarie per le sfide contro rischi antichi e nuovi, con la forza che deriva da uno spirito di appartenenza comune e dagli alti valori che contraddistinguono questa straordinaria amministrazione.